ciao a tutti nel video di oggi andiamo a mostrarvi una golf 1.6 tdi station beaver motorizzazione blue motion perciò ultimissima motorizzazione euro 6 macchina 115 cavalli la vettura è una chilometri zero quindi assolutamente nuova targata giugno del 2017 cioè il mese scorso vettura ufficiale volkswagen italia non importazione quindi provenienza concessionario italiano con tutte le caratteristiche nel caso andiamo a vedere un po all'interno di questa auto abbiamo come optional i fendini b anteriori il cruise control i comandi radio al volante e telefono al volante perché l'auto è dotata anche di voce bluetooth come dicevo prima vi faccio notare macchina un chilometro zero i classici chilometri che vengono fatti sui rolli per collaudare la vettura qua abbiamo il sistema app connect che ci permette di collegare l'auto con diverse app vedere immagini media quindi usb telefono radio impostazioni del veicolo vedete che già il sistema quello nuovo tutto in touchscreen con lo schermo grande insomma molto interattivo vi invito poi andare a vedere tutti i vari tutorial che ci sono in internet su questa vettura come potete vedere abbiamo le registrazioni memorizzate possiamo far scorrere e in stile telefono touch climatizzatore ovviamente start and stop sensori parcheggio fondamentali auto hold per il freno a mano elettrico distazionamento bracciolo allungabile e regolabile in altezza vano porta oggetti ok adesso usciamo e andiamo a vedere le altre particolarità della macchina cercherò poi di far vedere l'interno della dall'altra parte dove è più ben visibile la luce migliore vediamo il taglio dei fari che distingue la cos 7 molto bello cosa importante che ci devo farvi vedere è già la versione dei gli scarichi non ha vista quindi in stile integrato nel paraurti sensori parcheggio con gli originali adesso andiamo a vedere il baule si apre ruotando il marchio wusswagen vediamo la tendina che si apre con una semplice pressione ha una regolazione su due livelli qui abbiamo ruota di scorta con cerchio in lega scusate ogni tanto faccio qualche inquadratura pazza perché è un attrezzo nuovo la telecamera ok ruota di scorta con cerchio in lega dimensioni normali quindi come dicevamo il taglio dei fari della gos 7 perché lega 16 pollici e qua vediamo quello che secondo me distingue molto wusswagen la particolarità dei dettagli la qualità dei materiali la possibilità di aprire il cassettino per gli sciatori o comunque per infilare un qualsiasi cosa di lungo ingombrante ovviamente tutta una serie di airbag tra i laterali frontali quali nei montanti abbiamo il vano porta oggetti anche all'interno del sedile regolazione del lombare possibilità di inserire l'airbag insomma auto nuova chilometro zero 2017 1.6 turbodiesel 115 cavalli euro 6 vettura che viene venduta con uno sconto stratosferico direi per tutte le informazioni tecniche visitate il nostro sito www.tossolonebrusadelli.it grazie per l'attenzione vi aspettiamo